ma bei capelli manu visto che roba mi sono ispirato a briatore ispirato a questo lunedì siamo appena tornati da una trasferta ragazzi tremendo chi dice che viaggiare per lavoro è bellissimo vuol dire che non ha mai lavorato in vita sua diciamo che lavorare in estate al caldo in spiaggia non è proprio una di quelle cose che dici a quanto lo vorrei fare per fortuna è proprio capitato questo tipo di lavoro sì sì che bello al mare in spiaggia no è una merda fa schifo bocca avevo caldo sudato mi sono scontato fa schifo il mare fa schifo però il lavoro è stato figo qualcosa è già uscito anche sui profili instagram di crop se ci seguite l'avete visto nelle storie ma oggi non parliamo di spiaggia né dei nostri lavori bensì parliamo di qualcosa che c'entra però con i tuoi capelli e anche con la mia maglietta perché sono tematizzato esatto oggi parliamo di cose brutte di cose brutte esattamente abbiamo preso questo articolo dei nostri fratelli di nss magazine che scritto da giorgia monti che salutiamo quando vuole venire allo spigolo come sempre benvenuta che cita i feed di instagram perfetti non interessano più a nessuno e quindi questa puntata si baserà un po su questo discorso qua questa è messa a fuoco e come ogni lunedì vi parliamo di fotografia alle sette come sempre vi parliamo di fotografia video making se ci state guardando purtroppo per voi su youtube ci potete vedere come siamo messi se invece ci state ascoltando su tutte quante le piattaforme d'ascolto potete ascoltarci potete continuare ad ascoltarci qui come sa fuoco feed di instagram brutti possiamo dire che alla gente forse piace fare cose schifose perché non è capace a fare cose belle l'hai detto tu io quello che dico sempre è molto più facile fare una cosa brutta che una cosa bella perché la cosa bella la devi saper fare la cosa brutta simo la fai anche se non la sai fare e aggiungere una cosa che secondo me dopo approfondiremo ed è che saper fare foto brutte è un'abilità chi fa foto brutte in un certo modo è perché è capace di fare foto brutte non perché quindi è un brutto ricercato esattamente come si ricerca il bello si può ricercare anche il brutto assolutamente questo articolo fondamentalmente fa un escursus generale su come la piattaforma di instagram sia cambiata siamo passati dalle immagini tutte fighe delle influencer alle maldive quant'altro il vento esatto immagini tutti uguali fondamentalmente standardizzate e forse un po incolpati ancora dal covid o comunque da questo trend del fatto che non si poteva uscire quindi bisognava un po raccontare la realtà per quello che era chiuso in casa si è presa un po una piega di racconto della realtà no l'abbiamo visto anche con tiktok dove la gente comincia a far vedere se stesso senza filtri o queste cazzate qua che poi in realtà sono solo paraculate perché poi appena spengono il telefono si mettono lì a questa roba è tremenda te lo dico mi uccidono secondo te dillo pavido la gente fa finta di essere brutta perché è più facile sentirsi dire sei brutta che sentirsi dire sei bella fidati che fra un po di tempo avrà senso nella tua testa guarda hai trovato su aforismi.it e di andy warrol chiaramente nel caso ci siano illegali di andy warrol in ascolto io non sono associato a lui non assolutamente prendo le distanze scherzi a parte si è presa questa cultura del racconto del brutto dell'autentico in realtà secondo me il discorso è ancora diverso perché questo è un brutto più che altro di racconto della realtà senza patinarla troppo no che in un profilo instagram fondamentalmente di persone comuni possiamo anche dire chi se ne frega ma a livello lavorativo secondo me è un discorso che va un pochino ampliato perché non è proprio una ricerca del brutto secondo me è una ricerca estetica un po' differente rispetto alle immagini strafiche iper cinematografiche al quale ci hanno chiesto potete farcela un po sporca la ripresa quante volte ci hanno fatto questa richiesta e ogni volta noi gli diciamo possiamo farla bella e la sporchiamo dopo voi quando comprate un cesso lo comprate già sporco di merda oppure ma che parallelismo è però è vero a livello lavorativo gli altri chiedono facciamola un po facciamola un po rustica un po come se fosse appunto un po naturale no e poi tu la fai fai però lavoriamo perfetta cioè la vorremmo possiamo stabilizzarla un po prima te la fanno fare a mano libera come se un attimino avessi un po di problemi e possiamo stabilizzarla un po no adesso ti attacchi al cazzo l'hai voluta così di merda te la tiene di merda esattamente infatti adesso noi usiamo questo plugin bellissimo che aggiunge l'effetto l'effetto mosso a mano in post così ma il che vada glielo toglie loro sono più contenti perché oggettivamente parlando si sta ricreando un po questa cosa l'abbiamo visto con alcune campagne che abbiamo curato della gente che ti chiede appunto di fare delle robe come se fossero un po amatoriali no cioè che sembrino delle stories fatte da qualcuno che non sa farlo però poi il pack deve essere assolutamente perfetto la foglia deve essere impossibile muoverla da lì che deve essere cazzo scolpita nel marmo perché deve essere sempre la stessa e poi però però la facciamo un po più naturale un po più rustica e questa roba qua effettivamente secondo me si rispecchia molto in questo concetto no c'è quella voglia di comunicare realismo in realtà ma allo stesso tempo però ovviamente i brand devono comunque tutelare poi la loro immagine quindi c'è un po una sorta di tamponare ciò che sembra brutto ma in realtà è ricercato sì perché questo articolo più che dei brand parla della persona comune del feed personale e questa cosa problema che poi si riflette sui brand perché giustamente i brand fanno quello che la gente vuole fondamentalmente a parte rarissimi casi e il vero problema è che fondamentalmente questa cosa non è stata scoperta ora non è stata inventata adesso è una moda fondamentalmente che esiste da tantissimi anni è pieno di gente che faceva foto brutte grottesche perché mio fratello Meglierovitz come non citarlo nostro nostro grande amico però sì allora noi ammettiamo innanzitutto di essere due persone che per conformazione personale per forma mentis cerchiamo sempre una bellezza estetica ma anche banalmente per scelta tutti siamo passati nel periodo in cui facevamo foto di merda io non vorrei più tornarci personalmente ho cercato di andare avanti esatto e quindi diciamo che quando vediamo queste foto un po così un po esteticamente brutte ma possiamo definirle vere possiamo definire una merda però diciamo che diciamo ma perché non puoi farla bene che comunica comunque quella cosa lì secondo me nell'esempio del profilo che c'è qui sotto che vedete qui dietro che state vedendo in sovraimpressione secondo me c'è l'esatto esempio ad esempio questa roba qui la puoi fare trascendo che questo video non è brutto per quanto mi riguarda secondo me questo è un esempio sbagliatissimo però nel profilo di di questo ragazzo signore ragazza non lo so non la l asterisco conosco così salvo penso sia un uomo io non mi sbilancio così tanto non sono i periodi giusti per farlo ad esempio questa roba qui fa schifo punto è un video a caso che normalmente a un fotografo viene detto fai un video una foto a caso ecco esattamente questa roba qui questa roba qui può essere fotografata ripresa quello che volete in maniera brutta grottesca ma fatto in maniera giusta fatto bene questa è una cosa a caso e quello che vuol dire l'articolo che abbiamo menzionato che se ci state guardando su youtube trovate anche in descrizione anche su spotify c'è la descrizione possibile non linkarlo anche su spotify fondamentalmente è far passare che le nuove generazioni vogliono la cosa proprio fatta improvvisando fatta male tirando fuori il telefono e facendo la foto al primo colpo quello che viene ti tieni questa cosa secondo me è sbagliata perché si sta riflettendo anche sulla fotografia intesa come lavoro tutto il mondo della comunicazione in realtà inteso come lavoro non soltanto esatto 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 un po' questa moda dei dei reel di tiktok della della realtà no nel senso raccontiamo la realtà per quella che è che va benissimo in realtà lo faccio anch'io come esercito di stile del mare magari fare un bel quadro che possa essere magari una foto semplicemente che si muove questo è un po' il mio approccio però ad esempio io ho preso questo profilo qua che secondo me è un buon esempio un profilo molto piccolo di instagram che però ogni tanto guardo vedo che la gente lo ricondivide ed effettivamente c'è questa voglia di condividere anche delle cose molto semplici molto banali che però possono in qualche modo raccontare un pochino quella che è effettivamente l'italia o l'italianità insomma ci sono questi caroselli vedi però c'è uno può fare anche delle cose fatte un attimino uno può fare anche una cosa vera molto grezza molto fatta bene e qui la spostiamo ovviamente a livello lavorativo perché a noi di quello che fa la gente nel privato ce ne frega relativamente un cazzo e il fatto è che si sta un po' superando secondo me quella soglia del facciamo le cose fatte a cazzo perché comunicare questo brutto alla fine va bene perché è un trend quando in realtà secondo me il trend che veramente stiamo vivendo è quel cambiamento e il ritorno forse un pochino alla moda degli anni 80 queste riprese un po' vintage si vede anche banalmente nella moda tanta gente è tornata a mettersi le canottiere bianche nei jeans ragazzi ci rendiamo le canottiere bianche nei jeans sì ma quest'anno la moda cos'è tutta la parte le canottiere bianche nei jeans se la metteva mio nonno mentre mangiava la pasta e fagiò buona la pasta nonno avanguardista sono tornati tipo di moda tutta la parte delle vibes anni 60 la Woodstock su questo è scritto un po' psicadelica quest'anno quest'estate è tutto così no e anche a livello lavorativo basta prendere ad esempio i videoclip musicali tutta questa estate solo videoclip musicali in quattro terzi impossibile fare un video musicale in 16 noni ma perché devi sapere infatti sarà la prossima puntata del podcast sono uscite un sacco di fotocamere che registrano in quattro terzi adesso praticamente è uscita la nuova Sony non so se tu lo sai da ambassador no non lo sapevo praticamente registrano soltanto in quattro terzi perché è una camera che hanno detto la facciamo per quest'estate e poi dopo basta punto così la gente può fare questa cosa qua e non usare più diciamo che sicuramente questo ritorno anche al vintage o chiamiamolo come cazzo vogliamo della pellicola eccetera dei videoclip con questi zoom la pellicola è un evergreen simo per favore non scomodiamo la pellicola spero che bruci e quest'estate posso far bruciare le foreste perché c'è siccità eccetera bruciate i vostri rullini ma fai un buco nello zono che fa spavento se bruci i rullini tagliateli a pezzi allora e smaltiteli seguendo fate la differenziata ragazzi sempre esatto ma detto questo al di là di questo invito che sicuramente dovreste seguire come quello di non stare al caldo nelle ore troppo centrali del giorno secondo me questo inseguimento dell'aspetto grottesco farà un giro a un certo punto e diventerà come abbiamo detto noi una ricerca da parte dei brand o comunque dei clienti di cercare di ottenere quel tipo di risultato lì ma allo stesso tempo di farlo con delle immagini fighe secondo me in questi giorni abbiamo dovuto guardare delle campagne di Nike e di Adidas eccetera loro l'hanno sempre fatto questo inseguimento un po' dell'aspetto vintage della camera a mano della camera tipo anche a spalla che seguiva i soggetti molto sporca che si avvicinava male però cazzo quando guardi quella roba lì è giustificata sia dalla brand identity ovviamente perché comunque ci sta questa roba street questa roba vissuta e quant'altro sia proprio perché è comunque fatta bene come dicevamo all'inizio non basta fare cose brutte e farle male perché è tutto giustificato ma puoi fare delle cose che visivamente non sono quella perfezione del gimbal di tutte queste robe strafighe ma perché sono contestualizzate è inutile che grandi brand secondo me che hanno sempre fatto tutto patinato iper figo adesso cominciano a fare della roba di merda solo per adattarsi a specie quando poi non c'è la consapevolezza di che quel brutto lì possa effettivamente servire a comunicare qualcosa cioè se fai vestiti da 75 milioni di euro l'uno tutto perfetto hai le modelle tirate dalla madonna e poi fai tutte le riprese sbollate perché devi comunicare questo brutto estetico è una presa in giro non ha alcun senso sì effettivamente cozza veramente veramente tanto secondo me la parola giusta l'hai detta tu contestualizzazione ci sono delle situazioni dei brand delle persone degli influenti quello che volete che si possono secondo me permettere di farlo perché è lo stile giusto da da avere per loro per quello che è la loro identità e tutto quanto ci sono certe circostanze dove il risultato sembra soltanto o un adattamento ad un trend o una cosa fatta a casaccio come può essere nel caso di un privato una persona un fotografo a me tante volte capita di fare foto che hanno degli errori dei problemi tecnici a livello di luce cose la cosa che dico sempre tante volte a lui ad esempio quando mi prepara le luci per il set tu fai come le luci come le vorresti fare quindi con tutte le luci necessarie perfette il contro il cazzo il mazzo poi togliene una a caso tira un dado togliene una a caso in modo tale che crei quell'imprevisto che ti genera l'errore ma l'errore contestualizzato con un senso e secondo me la cosa interessante è questa l'esempio degli spot di nike secondo me è l'esempio perfetto perché è questo brutto più che brutto questo vero ma ha fatto bene perché ad esempio vedere Bella Did che fa questa foto qui non me ne frega niente sei Bella Did sì esatto perché non la stesse vedendo diciamo che c'è questa roba un po' di queste foto fatte quasi per sbaglio come se fossero zumbate male con l'iPhone cioè non lo so a parte che questo mi sembra veramente una ricerca di un tipo di estetica che non c'entra un cazzo poi con la persona che è perché oggettivamente parlando Bella Did fa quella foto lì e poi però e poi la trovi nelle campagne mega patinate di Montclair che fanno spavento è sempre il solito discorso la mancanza di coerenza secondo me rispetto alla propria identità in maniera completa cioè fai la strafiga a un certo punto e poi metti l'immagine di te col gelato sciolto in mano perché così fa realtà persona comune anche a quelli famosi si scioglie il gelato lo scoprirete nella prossima puntata di Messa a Fuoco volevo concludere invece con il trend di videoclipi musicali proprio per parlare di contestualizzazione e quant'altro secondo me tutta la sfera indie che poi ha trovato come regista ad esempio Enea Colombi piuttosto che Simone Peluso con Blanco che ha fatto un discorso di immagini di quel tipo lì però si vede che nei video di Blanco c'è una persona dietro che sa quel cazzo che sta facendo e lo sa fare pure bene secondo me Simone Peluso con Blanco hanno veramente trovato quello specifico risultato cioè Blanco come artista come persona è grottesca fa queste robe nel fango nell'acqua in mutande salta gira si lancia eccetera eccetera e quel tipo di immagine lì a volte sporca a volte perfetta a volte con la grana tutta lavorata male eccetera eccetera è perfetta quella roba lì è studiata ma è studiata fin dall'inizio fin dal primo video mentre a volte c'è questo inseguimento così da un punto da un giorno all'altro cominciamo a fare della roba che va in trend è figa ma fondamentalmente non c'entra un cazzo con l'immagine dell'artista che ci sta intorno e questa cosa qua viene applicata anche ai brand e secondo me a lungo andare poi i brand si troveranno con questa fase di moda in cui avranno delle immagini tremende e poi torneranno a dover fare tutto patinato perché effettivamente quello del mercato chiede quello e dovranno rifare tutto da capo e noi saremo qui pronti per voi crop potete mandare una stata che si adatta www.crop.it c'è la nostra mail quando dovrete rifare tutte le immagini perché avrete solo foto di merda siamo qui ragazzi con questa cosa qua vorremmo chiudere vi ricordiamo che vorremmo sapere la vostra quindi commenti di youtube commenti di spotify ci sono anche lì e c'è anche un bel sondaggio un sondaggio matto a te la roba fatta male piace sì no super no super no super no io metto super no questo sarà il mio voto fatecelo sapere con i commenti vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare una recensione su spotify manu ragazzi se non lasciate una recensione faccio un casino mettete le recensioni su spotify perfetto detto questo ragazzi messa a fuoco torna come sempre ogni lunedì alle 7 del mattino su tutti i canali e su tutte le piattaforme d'ascolto e anche su rai 1 non è vero ma non vuoi lasciare i nostri amici tele e ascoltatori con una massima sul brutto ti lascio ti lascio a te tutto quanto vai non è brutto ciò che è brutto ma sono brutto io e ti lascio a te Autore dei sorrisi